Una tranquillità per chi ci lavora e anche per chi deve essere in qualche maniera detenuto la possibilità di avere degli spazi un po' aperti e quindi di stare in maniera un pochino più consona e decente. Confermato il finanziamento di circa 700 mila euro a favore del progetto di recupero strutturale interno alla casa circondariale di Arezzo, il carcere San Benedetto. A confermare l'arrivo dei finanziamenti è il segretario della FSN CISL di Arezzo Alessandro Magnani e Alfonso Galeota, coordinatore territoriale. C'era stata un'impassa amministrativa, avendo appreso la notizia a metà dicembre, prima della fine dell'anno giudiziale, ci siamo dati da fare, ci siamo mossi con i nostri vertici a livello romano i quali sono intervenuti presso il Dipartimento e in metà mese, gennaio, abbiamo preso la notizia che il Dipartimento intende confermare lo stazionamento di 700 mila euro e il proseguo dei lavori data di destinarsi ovviamente, non sappiamo quando sarà. I lavori edili complementari saranno realizzati dai detenuti stessi attraverso i progetti approvati e finanziati dalla Cassa Ammende. È un ente all'interno del Ministero della Giustizia, del Dipartimento dell'Amministrazione che si occupa di reinserire i condannati con progetti di recupero tesi al lavoro perché come mi ha insegnato è il primo fondamento per reinserire persone migliori nella società e il lavoro all'interno delle strutture.